Ultima di andata al Carotti di Iesi, Leoncelli affrontano il Chieti che entra in campo indossando una maglietta con scritto Forza Cristiano, giocatore dell'Atalante e fratello di Federico del Grosso, capitano dei Nero Verdi, vittima nei giorni scorsi di un grave incidente d'auto. Il primo squillo della gara lo suona Trudo al decimo minuto con un tiro dal limite fuori misura. Risponde subito il Chieti con Dos Santos che serve Fiore, l'esterno Tiatino prova la conclusione ribattuta. Al minuto 14 gran idea di Strappini che serve Carnevali col contagiri, il numero 3 di casa tenta la girata e attento Fatone. Ancora Iesina avanti, ci prova al diciottesimo Strappini dal limite dopo uno spunto di Trudo, la palla finisce a lato. Al minuto 24 la Iesina va in vantaggio, ancora Strappini, ispirato, apre brillantemente per Pierandrei che batte Fatone con un preciso diagonale. Alla mezz'ora ancora pericolosi, padroni di casa in contropiede, Trudo è lesto ad arrivare prima di tutti e mettere al centro. La difesa ospite riesce in qualche modo a sbrogliare. Iesina che si difende bene chiudendo ogni spazio per Dos Santos e compagni. Il brasiliano deve dunque trovare soluzioni alternative, provando dalla lunghissima distanza. Niosi para in due tempi. Prova ad alzare il proprio baricentro il Chieti sul finire del primo tempo. Atteggiamento che però lascia il fianco al contropiede della Iesina. Trudo parte palla al piede ed è devastante in più di un'occasione. Proprio dai suoi piedi arriva il raddoppio a pochi secondi dall'intervallo, seppur con la complicità di Niosi, sfortunato ad intuire, ma non a deviare abbastanza per evitare il gol. Il primo tempo si chiude con un ineccepibile 2-0 per i biancorossi di Bugari. Nella ripresa ci si attende un Chieti arrembante, ma la Iesina è ottimamente messa in campo e al minuto 11, Strappini, ancora lui, cerca la gioia personale. Niosi, però, è attento. Risponde il Chieti con una punizione di Dos Santos dai 25 metri. Ottima la risposta in angolo dell'estremo di casa. Tremato, dopo un gran primo tempo, esce Trudo per Ragazzo tra gli applausi del Carotti. Proprio il ragazzo potrebbe colpire, ma si intestardisce e alla fine perde palla. Poco prima della mezz'ora esce tra gli applausi Capitan Strappini, anche lui protagonista di una gran prestazione. Poco dopo, secondo giallo per Carnevali, la Iesina resta in 10. Al 34esimo, Comini ha sul destro la palla per riaprire la gara. Fiore, imposta per Varone, la parra arriva a numero 20, ospite che impatta male in pallone. Minuto 37, ci prova ancora Fiore, dalla distanza nulla di fatto. Al 40esimo, i 50 tifosi giunti da Chieti ammainano bandiere e striscioni, non contenti di quello che hanno visto. Allo scadere ci prova Berricchio, Niosi para in due tempi. Finisce 2-0. La Iesina chiude il 2015 con tre punti pesantissimi. Brutto stop per il Chieti, apparso con la testa già in vacanza. Difficile da commentare una partita del genere. Sapevamo che venivamo in un campo difficile, dove affrontavamo una squadra molto aggressiva, pronta ad approfittare di ogni nostro errore. Sapevamo anche che le caratteristiche della nostra squadra si limitano parecchio se non mettiamo la cattiveria giusta in campo. È normale che forse con un approccio giusto, con una cattiveria diversa, le caratteristiche dei nostri giocatori possono essere esaltate. Ma se non mettiamo la partita sullo stesso piano, sulla stessa determinazione, è difficile vincere le partite solamente con il fioretto. Tutto qui.